Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ma andiamo con ordine. Gigi D'Alessio sarà presente al Festival di Sanremo 2024? Ebbene sì, almeno questo ha fatto intendere il mattatore siciliano. Ma tu? No, non si può dire, è una domanda che stavo per farti e di cui conosco già la risposta quindi non posso farlo perché spoilererei qualcosa di veramente importante e Belzebù mi farebbe. Belzebù, come sappiamo, è il nomignolo con cui Fiore chiama il suo amico Amadeus. Dalle sue parole si capisce che quindi questo anno il cantante salirà sul palco dell'Ariston, non si sa ancora se come ospite o nella serata dei duetti, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile due infatti con il rapper Jolie, ma ci basterà attendere il prossimo annuncio del direttore artistico della Kermess per averne certezza. Non si è tirato indietro neanche nel ficare il naso nell'ultimo Gossip Fiore. Da giorni infatti si dice che Gigi D'Alessio diventerà padre per la sesta volta. La sua compagna Denise Esposito sarebbe infatti incinta di quattro mesi. Rumors a cui nessuno dei due aveva replicato. Ma ora è Fiorello a far sbottonare l'artista e Gigi fa il suo annuncio con una battuta. Fiorello ha letto la notizia uscita su Repubblica secondo la quale in Italia non si fanno più figli. È perché li faccio tutti io è stata la replica ironica di D'Alessio. Per Gigi D'Alessio, che il 24 febbraio compirà 57 anni, si tratterebbe della sesta paternità, Gigi è diventato papà per la prima volta di Claudio nel 1987, poi Ilaria e Luca nati tutti dalla ex moglie, Carmela Barbato. Quindi il grande amore con Anna Tatangelo, durato 12 anni, da cui nel 2010 è nato Andrea. Infine la relazione con Denise Esposito da cui è arrivato il piccolo Francesco.